Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, ben ritrovati con Alex Carson e praticamente oggi faccio l'ennesimo video tutorial per importare delle squadre me lo chiedono spesso come si fa, come non si fa, forse magari tanti video tutorial sono troppo complessi non lo so, io cerco di spiegarlo come lo spiegherei a un bambino di 6 anni beh è chiaro che dovete almeno avere delle minime conoscenze di base come spacchettare un file dal computer e tutto il resto allora dovete avere intanto una chiavetta USB formattata, mi raccomando, deve essere formattata adesso non mi ricordo come ma comunque deve essere vergine, la chiavetta USB è formattata dopodiché andate sul sito, in questo caso passfootball.com o su qualunque link vi viene linkato in vari video con le patch e andate a cercarvi la patch che vi interessa oggi noi importeremo le squadre campioni del mondo dal 1930 al 2014 allora fondamentale è una cosa, io ve lo consiglio, poi fate voi io ho creato tre account playstation in tutti e tre, praticamente in tutti e tre gioco in maniera diversa gioco o con le squadre normali o con le squadre classiche o con le nazionali fondamentale è un'altra cosa da sapere cioè che comunque il numero di immagini e adesso andiamo a vedere qui in porta immagini è limitato, vedete? leggete anche qua non superano il limite massimo consentito questo vale per tutti gli account non solo per uno, per tutti proprio perché insomma la memoria non è illimitata comunque vedete qui avete appunto vi consiglio di importare le divise S se volete fare una prova per capire quanti slot avete liberi adesso lo facciamo andiamo a cercarci la divisa delle eccole qua ce le abbiamo subito spero che ce le abbiamo subito perfetto abbiamo quella del Brasile abbiamo quella del Brasile oppure andiamo a vedere se trovo ecco qua Brasile 94 perfetto abbiamo Brasile 94 casa trasferta e portiere ora io importo queste tre così giusto per capire quanti quanti posti ho ancora liberi è chiaro 1878 sono tutte le immagini disponibili nella mia chiavetta USB ok facciamo questa ne ho ancora circa 489 da importare benissimo abbiamo tanti slot liberi io una cosa che faccio sempre dopo che importo una patch è cancellare eliminare le foto allenatore e immagini stadio sinceramente non mi interessano dovete tenere presente che ci sono anche gli stemmi competizione oltre a appunto le divise ora importiamo le squadre le squadre appunto andate sul link naturalmente troverete un file zip fate il download lo spacchettate con winrar mi raccomando quando vi comparirà la cartella io di solito la metto sul desktop del mio computer fondamentale è il file la cartella WIPES è quella che dovete importare nella chiavetta USB nessun'altra cartella deve esserci fondamentalmente la cartella WIPES se non c'è la cartella WIPES boh siete un po' fregati la potete creare anche voi nel caso non ci fosse create voi la cartella WIPES e importate dentro le cartelle delle squadre automaticamente la cosa avverrà succederà tutto comunque andiamo a cercarci qui ho varie patch come vedete ecco qui importerò anche i Junior Mantis che ha le leggende European e FIFA Legends per intenderci le due squadre classiche però quello ma lo faremo all'ultimo se ho questo discorso qua eccole qua trovate vedete come vedete io ho varie patch per esempio questa è una bella patch con le vincitrici della Champions League se volete farlo fatelo ok eccole qua 90 94 98 eccolo qua aspetta non ho selezionato ecco qua Francia 2018 manca beh fondamentalmente non è tanto diversa da quella attuale e se avete solo questo file per intenderci beh fate selezionare tutti i file con quadrato ragazzi io sto sempre parlando per PS4 non sto parlando non sto parlando appunto per PC ok fondamentale è questo naturalmente sovrascrittura perché? perché abbiamo appena importato le divise del Brasile quindi le sovrascriverà e non ci ruberà ulteriore spazio e via dopodiché partite allora calcolate che ogni squadra ha tre divise almeno portiere casa trasferta forse le immagini dell'allenatore sono quattro e forse le immagini dello stadio sono cinque quindi per ogni squadra potrebbero essere cinque immagini e fondamentale che sia una cosiddetta divisa S 1024 per 1024 se è quell'altra che è in ultra alta definizione il cosiddetto 4K beh allora ci sono meno slot disponibili un'altra cosa fondamentale è il numero di slot dei giocatori tante patch creano giocatori nuovi per poi metterli dentro le squadre copiando le basi però non è infinito è altrettanto vero che è finita la creazione dei giocatori cos'è che fanno tante volte i giocatori inventati dalle squadre inventate le trasferiscono quindi è chiaro che diverse patch sono tecnicamente impossibili da combinare perché a un certo punto vi ritrovate con delle squadre che sono inservibili perché magari una patch ha rubato dei giocatori all'altra patch li ha trasferiti li ha copiato le basi e di conseguenza troverete le squadre tipo con 8 giocatori ecco importazione data è completata benissimo naturalmente importiamo anche la competizione speriamo di trovarla perché in mezzo a tutto il casino che ho dentro sta chiavetta qui spero di trovarla eccolo qua FIFA Champions FIFA Cup FIFA Super Cup eccolo qua anche qui stessa cosa benissimo abbiamo fatto tutto a sto punto andiamo a vedere per le squadre se sono quelle dovrebbero essere al posto del campionato PLA il link ripeto il link è su passfootball.com ragazzi non è su Lega Peu eccole qua a meno che ah no sul campionato pass meglio ancora però non li ha messi in ordine vedete quello poi lo farete voi comunque qui abbiamo dal 30 al 50 e poi abbiamo la Germania nel 2014 la Spagna nel 2010 vogliamo vederle divise andiamo a vedere l'Italia nel 2006 come l'hanno fatta beh l'hanno fatta bene tutto sommato dai l'hanno fatta bene dai non ci si può lamentare la prima divisa del portiere oh perfetto andiamo ecco per esempio lo stadio dopo è chiaro stadio olimpico per esempio stadio di casa vediamo adesso che abbiano messo lì l'Escorpiao forse potete poi a seconda vedete a seconda poi in che campionato viene messo sono disponibili più o meno certi stadi per esempio il Brasil qui nel campionato pass sono disponibili vedete c'è solo il Saitama se fossimo stati in Sud America avremmo avuto tutti gli stadi sudamericani sotto licenza più questi qui se fossimo stati in Europa stessa cosa quindi purtroppo li ha messi nel campionato pass che ci vogliamo fare beh il Brasile il Brasile lo facciamo giocare che è al Konami Stadium lo facciamo giocare all'Escorpiao e mettiamo Maracanã L3 fondamentale ok non sarà il Maracanã però insomma si avvicina andiamo a vedere un'altra Italia andiamo a vedere ebbè questa qui vediamo dietro anche i numeri e i numeri erano grandi sì perfetto perfetto comunque e questo è quanto ragazzi è fondamentale adesso salvare fondamentale è salvare ora l'altro problema è benissimo Alex io ho importato le squadre ho fatto tutto come hai detto tu ma vado a farla amichevole non mi compaiono e beh ragazzi è molto semplice il discorso c'è l'aggiornamento live l'aggiornamento live va a inficiare quello che noi abbiamo fatto cioè di fatto tutto quello che abbiamo fatto finora sembra inutile perché vedete ecco l'aggiornamento live e allora dici Ale che facciamo perché vedete i valori i valori delle squadre vuol dire che ci sono i giocatori ancora quelli inventati del campionato pass e allora spingiamo schiacciamo il tasto R3 che è la levetta di destra per intendersi aggiornamento live no torniamo e vedete come cambia tutto vedete come cambia tutto e questo è per tutte le patch ragazzi io penso e spero andiamo a farci intanto abbiamo andiamo a iniziare un amichevole io spero di essere stato il più esauriente possibile calcio di inizio andiamo così chi se ne frega andiamo appassionati del gioco buon PES 2021 a tutti spero di essere stato il più esauriente possibile e spero insomma potete trovare la patch che più vi interessa l'importante appunto è che fate sempre i conti su quante immagini potete importare ragazzi Alex Carson vi saluta sul sottofondo di Caressa ciao ragazzi grazie a tutti